15 maggio, a doppiano dei Fiorentini, vediamo come la neve si sia ormai sciolta, anche se in mezzo al bosco ce n'è ancora, si passa dai 0 cm a 1 m e anche 1 m qualcosa, stranamente la neve in alcune parti è ancora ghiacciata, vuol dire che l'escursione termica è ancora alta e i danni provocati da questo inverno nevoso sono tanti, basta guardare gli alberi distrutti dalla neve e destaccionate, però un segno positivo, prima abbiamo visto anche un cerbiato piccolino girare per il bosco, quindi è segno che comunque la vita continua anche se qui in questo inverno si sono accumulati quasi 4 metri di neve, ecco possiamo vedere come in alcune zone la neve sia stata sciolta del tutto, ecco qui probabilmente in alcuni posti rimarrà fino a fine mese e ci sono tantissime bucaneve, solo che qui siamo in mezzo al bosco e non possiamo vederli, ecco un saluto a tutti da mondoneve.it